Dal 7 al 13 febbraio anche i territori di Caltanissetta ed Enna hanno dato il proprio contributo in occasione della 23esima giornata della raccolta del farmaco. Un gesto di solidarietà che è stato condiviso da molti cittadini che hanno donato qualcosa, recandosi nelle varie farmacie aderenti all'iniziativa del Banco Farmaceutico, tra Caltanissetta, San Cataldo, Serra di Falco, Santa Caterina, Villa Armosa, Niscemi, Gela e Centuripe. Positivo infatti il bilancio secondo il responsabile delle province di Caltanissetta ed Enna, Filippo Iannello. Quest'anno devo dire che è andata molto molto bene. In provincia di Caltanissetta sono stati raccolti, sulle due province, 2023 pezzi non farmaci, mentre sulla provincia di Caltanissetta circa 1.600 e poi rimanendo nella provincia di Enna. Caltanissetta ha oltre 700 pezzi, quasi la metà di quello che si è raccolto in provincia è stato raccolto a Caltanissetta. Chiaramente Caltanissetta è la città, è il capoluogo, quindi diciamo che c'è una maggiore utenza dentro le farmacie, quindi diciamo che riusciamo ad avere più consensi. Però devo dire che anche Sera di Falco, pur essendo un paese piccolo, il paese è stato, o Santa Caterina stessa, sono stati veramente in una maniera proprio amabili per quello che hanno fatto e per quanto hanno dato. La raccolta è stata effettuata grazie anche alla collaborazione di numerosi volontari e associazioni. A Gela, dobbiamo dire che l'associazione La Piccola Casa della Misericordia ha fatto tanto, a Niscemi la Misericordia che è molto impegnata sul territorio, poi a Santa Caterina hanno fatto proprio la staffetta, la croce rossa, i volontari del Banco Alimentare, i carabinieri in concedo, a Sera di Falco i volontari dell'associazione Don Pino Puglisi, a San Cataldo, l'associazione Progetto e Lavoro e poi anche l'associazione Beato Giacomo Cusmano che ha fatto tanto, diciamo che ovunque, a Centuripe, l'associazione Progetto per Centuripe, diciamo che tutti si sono spesi in una maniera tanta, ma devo dire una cosa, un grazie a Caltanissetta, devo darlo per Agata Scangarella, che con l'associazione Copiosa Redenzione, mi sembra che si chiami, Copiosa Redenzione e Parrocchia Sant'Agata, è riuscita a coinvolgere non so quanti persone, oltre un'ottantina di persone, e i risultati a Caltanissetta si sono avuti. Nel caso di Caltanissetta, i farmaci da banco raccolti e i prodotti per l'igiene, anche per i più piccoli, come Pannonine ad esempio, sono stati donati proprio all'associazione Copiosa Redenzione, preseduta da padre Zanata Valdesir, realtà che opera a Sant'Agata.